Listo. Puoi parlare? Sì, padre. Carissimi amici di Santina, sono tanto felice di raccontare la storia di questa bella famiglia. Vi ricordate l'albergo che abbiamo costruito di Casa Esperanza? Bene, era di proprietà della signora. La signora ha perso il marito e quindi non poteva più mantenere quella casa. È molto povera. Allora lei ha venduto a noi quella casa e così noi con 11.800 euro abbiamo aiutato la parrocchia che ha potuto fare Casa Esperanza e questa signora, perché con quei soldi ha compratto, parte di quei soldi ha compratto questa nuova casa che è più piccola, modesta, molto molto povera, però abbiamo potuto dare a loro una nuova casa. Guardate questo bambino che bello, è tutto bagnato dall'acqua perché qui c'è un fiume vicino. Come stai chiamando tu? No, no. Adios a le persone che ci sono ascoltano? Adios, adios. Adios? Adios. Maravilla. Questa è la mia moglie più forte del mexico. Come ti chiami? Ines, Ponce Agustin. Bien, puoi fare un saluto per i italiani che ci sono ascoltano? Adios? Adios, saluto a tutti. Tu nomi è? Luz Clarita. Luz Clarita, Luce Chiara, molto bene. Un saluto, per favore. E ci mancano altri due figli, che sono bellissime ragazze, ma sono una sposata e l'altra oggi è a scuola. A tutti voi un saluto da qui, da San Luis di Acatlano. Adios, adios. Grazie. Grazie. Grazie.